Ben trovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpal, ci apprestiamo a vivere un periodo con temperature in diminuzione al di sotto della media stagionale, avremo bel tempo con cielo e prevalenza sereno fino a domani giovedì mattina, dal pomeriggio e fino alla mattinata di venerdì, nubi irregolari con isolate e deboli precipitazioni, successivo miglioramento con nubi residue che sembrano destinate ad alternarsi al sole, anche sabato. Il dettaglio, oggi mercoledì 17 marzo un potente anticiclone si protende sull'Atlantico e favorisce la discesa di correnti fredde di origine polare sull'Europa, sulla nostra regione sole che splenderà per tutto il pomeriggio appena disturbato da isolate e modeste nubi, venti da nord in rinforzo fino a forti rafficati in serata sul centro ponente, mare poco mosso mosso, temperature massime stazionarie lungo la costa tra 15 e 18 gradi nelle zone interne tra 13 e 16 gradi. Domani giovedì 18 marzo la Liguria è raggiunta da deboli infiltrazioni di aria umida di matrice e adriatica che portano nel pomeriggio locali addensamenti e isolate precipitazioni nell'interno del Levante sulle Alpi Marittime. Non si escludono fiocchi di neve sulle cime, venti da nord nord est moderati o forti in calo fino a deboli in serata, mare mosso localmente poco mosso, temperature minime in diminuzione lungo la costa intorno 7-8 gradi nelle zone interne tra meno 3 e 0 gradi, massime in diminuzione lungo la costa tra 12 e 15 gradi nelle zone interne tra 9 e 13 gradi. Dopodomani venerdì 19 marzo un impulso perturbato raggiunge le regioni centrali della penisola e porta sulla Liguria nubi regolari con addensamenti localmente consistenti, soprattutto al mattino a Ponente dove non si escludono deboli piogge sparse, pomeriggio soleggiato, venti da nord nord est moderati o a tratti forti, mare poco mosso mosso, temperature minime in diminuzione lungo la costa tra 5 e 7 gradi nelle zone interne tra meno 3 e meno 1 grado, massime in diminuzione lungo la costa tra 10 e 13 gradi nelle zone interne tra 7 e 12 gradi. È tutto, seguite gli aggiornamenti su arpal.liguria.it, sulla pagina Facebook di Arpal e sul profilo Instagram dell'agenzia. A risentirci!